A Gli studi di Expo Milano 2015, eccoci all'Expo Show con Giulio e Zittina. A bordo niente po' di meno che della luna! Quarta che luna! E il piano con pena fare giù così piano! Ops, meglio che la pensavo una zucchina tutta ad un pezzo. Facciamo così, lei si ricompone e noi mandiamo il filmato. La vita di Giulien Zucchina era una vita pulitissima! Ed equilibratissima! Talvolta un pochino noiosa. Quello che le mancava era un po' di pepe. E di sicuro non l'avrebbe trovato niente. Ma dove poteva trovarlo il pepe? Ecco, via delle spezie 3497, angolo con via della seta. Si mise in viaggio, ma il pepe non si trovava proprio dietro al primo angolo. Neanche il secondo, terzo, quarto. Decise di chiedere indicazioni, anche se perciprovo per un'impresa. Alla fine le sembrò di essere nel posto giusto, ma tra tutte le spezie, dove è il pepe? E soprattutto, dove è l'uccita? Sono felice di rivederla energica e peperina, direi. Posso dirlo? Che ragazza, tutta pepe? Forse è troppo, pepe, non le pare? Non lo sapeva che fa starnutire? No? E allora ci deve proprio andare all'Expo Milano 2015. Lì potrà scoprire tutto su tutte le spezie del mondo, pepe compreso. Ecco qui che si dice andare a razza all'Expo. Salute. Expo Milano 2015, dal 1 maggio al 31 ottobre. Acquista il tuo biglietto su expo2015.org